Ieri notte un incendio divampato in una baracca all'interno della tendopoli di San Ferdinando, in cui sono ospitati i migranti, ha provocato tre feriti, tra i quali una donna in gravi condizioni. Erano le quattro quando le tre persone sono stati sorpresi dalle fiamme, sviluppate da un bracere di fortuna allestito per riscaldarsi. Le scintille avrebbero dato vita al rogo che nel giro di pochi minuti ha distrutto la baracca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizie e carabinieri della compagnia di Gioia Tauro di San Ferdinando, che hanno chiesto l'ausilio di alcune ambulanze. I tre feriti sono stati portati all'ospedale di Polistene di Gioia Tauro, mentre il più grave è stato trasferito a Catania per gravi ustioni in varie parti del corpo.